è la quinta volta, la quinta volta c'è di provo, tra poco mi hai partito dalla rotola destra, c'è la stricola, dopo me la inchiacciavite, jump, ok, però almeno il saltino gli è venuto leggermente meglio, rifacciamo alla sesta, no, allora ragazzi, prima di partire con il video, mi raccomando di mettere il like sul medesimo e di azionare la campanella per avere tutte le avvertimenti dei video che facciamo, così non ve ne perderete uno, tanto vi facciamo vedere questo, questo stupendo vinile giapponese Nick Plitas, cantante fra jazz e musica elettronica, questa è una stampa originale giapponese bellissima, bellissima da trovare su www.vinistrack.com, Nick Plitas, album che vi consigliamo, l'argomento del giorno, si è delazissi? No, lo so che non si è delazissi, altrimenti non staresse i nostri amici, i famosi vinili splatterati, molti di voi ci hanno chiesto, anche un ragazzo è buono prima che ha preso due o tre dischi, ma come suonano i vinili colorati? In questo caso, nel caso del Black Sabbath con Never Say Die e la ristampa che uscita limitata di Sabbath a Bloody Sabbath, entrambi colorati splatter, sono veramente veramente bene. Come potete orientarvi per andare a colpo sicuro? Allora, i bici a dischi fanno parte di un altro settore che ne parleremo un'altra volta, dovete comunque affidarvi a vinili prodotti dalle case discografiche, in tal caso qui è la BMG, si parla di major, non indipendenti, perché? Qual è la differenza tra gli indipendenti e le major? È la qualità del vinile usato, vi faccio rivedere nuovamente questo del Black Sabbath, vedete? Trasparente, questo è un vinile di altissima qualità, colorato ma di altissima qualità, le indipendenti invece usano un tipo di vinile meno buono, buono ma non a questo livello qua, per cui quando si prendono dei vinili splatterati, se volete avere la qualità audio, orientatevi sempre e comunque sui vinili delle major, ok? Un voto per ambi? Vabbè, diciamo, qualità artistica, lo sapete, 8 e 7 e mezzo, qualità audio 7 e mezzo e 7 e mezzo, e già vuol dire tanto, ci vediamo dopo con un altro video, mi raccomando, io ce li provo FF, ce li provo, vedi, voglio fare cosa? No Rav, jump!